Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Eccoci qua di nuovo con i supermarchettini e andiamo ad aprire queste altre due confezioni mio dio mi piacciono troppo 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 e veramente sono troppo felice che sono contornati in edicola andiamo ad aprire la prima busta ecco qui dov'è? e andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato ho trovato come sempre uno scaffale che non aprirò perché non mi interessa oh mio dio che bello vediamo chi è prima vediamo il poster che è il numero 3 che bello che carino sono nel frigo e lui è famma è lei è una lei è Pamela Pamela sì Pamela molto carina è lei sì 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 è lei Pamela è molto bella veramente è fatta benissimo non la aprirò perché non mi va di uscirla è molto carina è fatta veramente benissimo ed è questa qui adesso andiamo ad aprire l'altra busta questa la sposto qui qui sempre ho trovato finora solo i scappali ok guardiamo i poster oh guardate li sto trovando tutti i poster cioccolata sempre la solita checklist ho trovato sempre lo scaffale ormai è una cosa oh che carino ho trovato shampoo oh oh ecco shampoo dove è? dove sei shampoo? dov'è? cioè è Sam shampoo ma io l'ho trovata di un altro colore ah no forse è questa sì è Melissa champista credo che sia lei sì sì guardate Melissa champista credo che sia lei perché cioè boh mi sto confondendo credetemi perché è uguale a Sam shampoo però i colori sono quelli di Melissa champista vedete che ha i peli blu e Melissa ce li ha fucsia boh comunque magari è un mix dei due non lo so oppure è un errore di stampa non saprei comunque è molto carino lo stesso carina sì credo sia lei perché ha boh mi sono confusa mi sa comunque è lo stesso carino mi piace tantissimo e niente questi due sono i macchettini che ho trovato in queste blind spero che vi piacciono mi piacciono un sacco adoro i super macchettini come sapete anche gli zoblings quelli sono i miei preferiti e niente spero che questo video vi sia piaciuto mi è caduta quasi la fotocamera spero che questo video vi sia piaciuto spero che vi sia stato utile se posso darvi un consiglio acquistateli perché sono troppo 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 carini e niente noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao